Dessì a Villa Cidro si è svolto l'incontro con l'attore Franco Nero e la regista Giancarlo Planta. Per noi c'era Massimiliano Reis. Nel ricordo di Giuseppe Dessì, questa è la casa museo con i libri e gli oggetti, cari e l'autore di Paese d'Ombre, tappa essenziale per conoscere il suo mondo letterario. Nella casa Dessì, nell'ambito degli appuntamenti inseriti nella 26esima edizione del premio intitolato Lo scrittore di Villa Cidro, l'attore Franco Nero, che da pochi giorni ha il suo nome nel viale delle stelle del cinema a Toronto, ricorda il film Sequestro di Persona, il regista Gianfranco Mingozzi, girato in Sardegna alla fine degli anni Sessanta. Ma ho dei bei ricordi, io sono stato un po' l'artefice della scelta dell'attrice che era Charlotte Rampling, che io dissi proprio al produttore Clementelli, guarda che c'è un'attrice inglese che sta, che l'ho vista in un piccolo film, un film piccolo, ma era un bellissimo film che era Giorgi Svegliati di Silvio Nanizzano assieme a Leonard Grave, James Mason e Alan Bates, e ho detto guarda io ho visto questa giovane attrice che per conto mio è stupenda e dove sta? Ho detto guarda con la delegazione inglese va al festival di Sorrento e così sono corsi a Sorrento e hanno chiuso subito il contratto ed è venuta a girare con noi. Franco Nero figura nel cast del film Angelus Hiroshima, del regista caglieritano Giancarlo Planta, presente anche lui a Villa Cidro. Io sono uno di quei caglieritani che intanto soffre come un... L'altro giorno ho visto Caglieri Roma, l'ho vista in un'osteria di Frascati, ero l'unico sardo, pensavo di trattenere la gioia, di dominarla e poi invece è scoppiata la mia anima caglieritana. Quindi io non sono un caglieritano di origine sarda, sono un sardo che adesso sta vivendo una parentesi illustrata in una città straordinaria che è Budapest. Ogni volta che vengo in Sardegna non soltanto mi riprometto di ritornare, questa volta tornerò presto per girare il mio prossimo lavoro e per creare questa scuola di cinema che sarà un progetto che verrà coinvolte tutte le migliori menti che si interessano di cinema, ma non solo, anche di drammaturgia, di scrittura.